Ah, questo è male! Il momento servite, perché vado via, vado via che è meglio, molto meglio se me ne vado via, sono qua col cecchino che non so usare tantissimo sinceramente, non mi piace il cecchino, però perlomeno, visto che l'avete richiesto proviamo a vedere qualcosa, quello c'è morto, no, ma la vita serve, tu hai un dispenser, usatelo, però per il coglione a me, che non ci ho voglia di salire qua sopra nelle tue costruzioni. Allure, eh, grande velocità, volevo provare a sparare a qualcuno a minchia, merda, ecco cosa succede ad andare in mezzo, dove è pieno, pieno di nemici, ovviamente succede questo, ovvero essere spiattellati a terra di brutto, senza possibilità di ritorno, meglio la possibilità di ritorno c'è, però fra un secondo, eccoci qua, e vai, mi sento quasi un essere soprannaturale. Eccolo! C'è nessuno, eccolo! No, come Spice P. My Sentry? Dov'è? Dov'è? Datemi un attimo, ci penso io. Non ci penso più io, è morto, ma è vivo o è morto? L'ho tirata troppo su, l'ho tirata, che è brutto da dire, l'ho tirata troppo su, però è così, il fatto è che c'è il carrello, non posso fare tanto io col carrello in mezzo ai coglioni, non vedo niente. C'è gente che mi parla sopra il vetro, scusate, ma ho un po' di raffreddore e vi sto pulendo il naso. E questo sappiate, che è come i veri uomini si soffiano il naso, all'indie, cioè a dentro però. Comunque, questo sono io? No, hai il mio stesso cappellino. E sono tutti qua, aia, sono tutti qua, sono tutti qua, siamo fritti, fritti. Con calma. Ho detto con calma. Mori! L'ho mancato, ma perché li manco? Ma io ho sparato giusto. Oh, vedi che ho sparato giusto, non sono io allora. Preso! Cacchio! E che cavolo! Eh, l'ho visto arrivare! Questo sono io? No. Per, per, mettiti un'altra arma! Almeno non sembro io ogni volta, datemi un attimo. L'ho mancato. L'ho colpito, ma non gli ho fatto niente. Dov'è la spia? Spy? Dov'è? La vedo? Cioè, la sento, non la vedo. Aia! Chi mi ha fatto tutto sto male? Qualcuno mi ha fatto malissimo, tipo. Attenzione! Attenzione! Passa! Merda! Io passa dopo due ore e lascio il grilletto. Ma porca la bubaz, però. Tu sei una spy? Aia! Tu sei una spy? Grazie, tizio! Ho difeso io, però, la... Il carrello l'ho difeso io. O meglio, non il carrello. Quello che ne resta. Qualcuno? Non posso restare mezz'ora caricando il colpo, però io... Muori! L'ho mancato! Datemi un attimo, scusami. Mi ha fatto anche un po' i coglioni. Aiuto! Aiuto! Muori! Non seguirmi! Quella sembrava una spy, ma non lo era. Sicuramente non sto facendo la miglior partita di sempre. Ma perché... Ripeto! Mi piace il cecchino, lo so usare. Quello mi fa esplodere. Oh, no, 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 no. Cosa? Quando? Cos'è successo lì in mezzo? Eeeh! Grande colpo! E questo era ammirato, ve lo giuro. Ve lo giuro era ammirato, però non ho più niente, no. Quello era ammirato. Quindi ve lo dico sinceramente. Questo non era ammirato! Era una spy invisibile. Però è stato figo lo stesso. L'ho presa comunque bene con la spy. Infatti... No, non era in faccia. L'ho presa la basta. Cioè, l'ho presa con l'arco. La spy. Ho preso la spy con l'arco. Perché voi mi prendete in giro perché non capite. No. Sono tutti qua, sono. Guarda, riguarda, riguarda. Vai! Perché l'ho lasciato dopo tre giorni il grilletto? Spara subito. Adesso farò una nuova tecnica. Sparo subito. Sparo. Funziona! Funziona! Non ci credo. Funziona. Ma mi serviva a me, testa di merda. Non sono... No, ho sprecato una freccia. Puttana. No, vai via! Mie, mie! Me le sto camperando. Ok, le ho prese. Le munizioni. Perché voi... Aia. Però stiamo reggendo, stiamo reggendo. L'importante è quello. Non sono ancora morto perché do un colpo e me ne scappo via. Tu sei una spia. No. Ok. Arrivo. Arrivo, signor medico. Ti aiuto. Stiamo? Ora! Ha colpito a caso. Ma no. Ora! Ho mancato. L'avessi rifatto di nuovo sarebbe stato fighissimo. Non ti vedo. Faccio finta di niente perché così mi continua a sparare da fermo. Nye! Ah, devo sparare subito. Appena arrivato, spara! Funziona! Funziona, gente. Credetemi. Volete... Come diventare bravi col cecchino? Non pensate. Spara, appena... Spara! Vedi, funziona! Non sto scherzando. Non sto scherzando. Non sono io pazzo. Eh, guarda come mi sto aspettando. Nye! Vedi, ci ho pensato. Spara! Appena vedi, spara. Spara! No, non funziona più. Dio! Grazie! Grazie! Al medico! Dio non ha fatto niente in questo momento. È stato il medico. Sì! Vai! Sono arrivato primo proprio. Nuova partita. Nuovo set. Cecchino normale. Gerate. Bushwaka. Andiamo a fare il culo a tutto il mondo. No, qua c'ero prima io. Scusi. Scusi, signor. Che cazzo ti spari? Ti puoi spostare. Vai via. No, è mio questo spostare. Via! Via da qua! Via! No! Vai via. Ti sposto tanto. Mamma! Se ne vuole andare. Guardalo, guardalo, guardalo. A uno dei due punterà. Ho sbagliato! Ho sbagliato il tempismo. Tantissimo proprio di brutto. Mi vengono a prendere. Mi vengono a prendere. Attenzione. Gialate. Ok, mi posso spostare. Questo. Attenzione. Me ne vado via. Me ne vado via. Eh, però, però, quel cacchio di coso. Ma porca. Uno è andato. Ma quello è... Aspetta, ma è il nostro, eh. Ma è lì dietro. Si sta nascondendo. Io l'ho visto blu. L'ho sparato. Si stava nascondendo. Non l'hanno visto mai proprio. No! Colpito troppo presto. Ma è tutte quelle mini torrette? Sì, adesso il muro può essere critato. Tiè, muori. Muro cattivo. Madonna, a me è al tempismo proprio. Ma va a fanculo. Aspetta, aspetta. Ma qua c'è qualcuno. Attaccate voi, però. Non è che posso andare io. No, vieni qua. Lo sto colpendo. Lo stavo colpendo. Lo colpisco più. Dove sei... Eh, là dietro. Ma l'avevo colpito in tutti i modi, tipo. Ma quello ero io, no? Attenzione. Preso. Stavolta il tempismo era giusto, perlomeno. No, non devo far vedere che c'è il cecchino qua. Però io ho paura delle spie. Ne arrivano ovunque proprio. Ma no, ma l'ho colpito in te. Eh, vabbè, minchia. Ehi, sono visto... No, eh, dai! E stavo parlando. Mi sono visto l'esplosione proprio... Lo stavo per ricolpire. Ho visto pezzi. Uno scout frantumato in milioni di pezzi. Ci sono rimasto male. Ci sono rimasto francamente male. Olè. Vai un altro scoppiato. Come ha fatto a colpirlo? Dov'era? L'ha colpito, ma non ho visto dov'era. Preso. No, il medico. E quello sono io, però. No, no. Lo so che... Sono io! Che cacchio vuoi che ti dica? Cosa fa? Oh, no! C'è un doppione. Un altro che si chiama Casu90. Perché non lo riesco a colpire? Ah, eh. Ho detto, ma che cacchio. Mezz'ora che sentivo il colpo della carne, ma non... Nessuno colpito. Merda. Ci ho tentato. Uhuh! Scalpo! C'hanno massacrato. Ma non è possibile mai, proprio. Non è possibile mai. Un mio piede. Stiamo a... Che fa questo? Ma perché? Perché colpisco così? Tiè, muori. Vaffanculo. Ogni volta, ormai. Che carino, questi... Puttana! Sembravo, sembravo quello di patatini, così sembravo. E' ancora qua dietro? No. Io me la son tentata, però. Ma do, ma do alla mia mira. Au. Mi ha colpito in pieno. Buah! Sono quasi morto male. Ciao, tizio. Datemi un attimo. Ma che cazzo ti taunti? Vai! All'assione, bish! Attenzione. Ma l'ho colpito. Non sia una spia Sirus, lì? Ma non dici... Ma che cazzo ci faceva all'infonso? Mi è uscito molto sneaky, tipo. Oddio. Questo mi ammazza. Non è vero. Vaffanculo. Non riesco a fare niente. Io mi chiedo, ma che schifo di puntata vi sto facendo vedere. Questo è perché mi chiedete classiche e non uso. Boom! Vedi? Ci penso, non va bene. Spara subito, vai. Eeeh, è sparato. Eeeh, è sparato. Eeeh, muori. Eeeh. Da qualche parte sarà andato a finire. Ma, ho preso una spia. Ho fatto malissimo una spia, tipo. Ah, muori. Fanculo. No! Portalo qua, tizio! Scusatemi, però questo non lo sopporto. Mori. Non lo sopporto quando stanno fermi lì, così. Sappala quella torretta! Cacchio! Dai! Maia! Perché mi son tolto lo scudo? Mi piace così tanto. No, me lo devo togliere il Razorback per mettere il Jarate, che mi dimentico di usare tanto. Che cacchio lo usa fare il Jarate? E poi siamo tutti cecchini, sbaglio. 2, 3, 4. Ma io non voglio cambiare. Per una volta che lo uso io il cecchino. Muori. Madò, aia. No, non mirare. Basta, fuori dalla mira. Ti colpiscono, fuori dalla mira. Scappi. Così funziona. Caro mio. Eh, invece resta lì. Boh, l'ha scoppiato male. Io sto cercando. Ma fanculo. Vedi, vedi? Non posso uscirne. Non ho copertura. Sono uscito. Non ho copertura. Non ho copertura. Sono uscito fuori dallo schermo. Non so perché. Non chiedetemelo. Però è uscito. Punto. No, no, no. Sì, ne è inutile. Aia! Male! Datemi un attimino. Devo fare un attimo una cosa. Scusatemi, eh. Ci metto poco, tanto. Qua non si va avanti, qua. Tu, cosa stai facendo? Chi stai colpendo? A te stesso? Scusatemi, per... Guarda, il medico sta colpendo il cecchino perché non c'è nessuno. Vai avanti tu, vai. Via! Via da qua. Ciao! Medico, su di me, vai. Devo far vincere sta squadra. Mi sono rotto i coglioni. Va bene il video e tutto. Però non è possibile così. Non c'è nessuno che sta... Che sta mandando avanti il carrello. E dietro c'è una spia, cari. C'è una spia. Eh, che cavolo. Adesso arrivano i grossi. Questo c'è il coso. Ti sto bloccando tantissimo, caro. No, pensavo stessi andando lì. Scusate, però a sto punto mi metto a aiutarli un attimo. Perché c'ho quest'arma? C'ho quest'arma dall'altro video. Se non l'avete visto, andatevelo a vedere sulla playlist. Bicis. Oh, vedi? Vedi? Vedi che si sta vincendo tu, sei una spia. No. Però si sta facendo qualcosa per lo meno. Vai via tu. Hai rotto i coglioni. Medico, qua. Medico, per favore. Ci muoio io se non mi curi. Cacchio. Abbiamo... Abbiamo vinto. Ho cambiato solo, cioè... Il cecchino, ho cambiato. L'ho cambiato. E stiamo vincendo. Vaffanculo. Vaffanculo al cecchino. Non lo so usare. Non chiedetemi di usarlo. Non chiedetemi di far commentare sul cecchino. Non li faccio. Non lo so usare. Basta. E' inutile. Non è la mia classe. Non è la mia classe. Io sono più da classe strategica o che fa casino. Tipo il soldato. Vedi? Oh! Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Comunque, gente. Spero il video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace perché ho sclerato. E... Bye bye!